Ciao, benvenuto in questo nuovo post, oggi dedicato ad un concetto piuttosto complesso, il concetto di immortalità ed eternità. Abbiamo queste due parole che rappresentano, dal mio punto di vista, degli stati di coscienza piuttosto diversi. Cominciamo ad analizzare il primo concetto, quello legato appunto all'immortalità, all'essere immortale. Questa parola è una parola che presuppone la morte, quindi comunque è un concetto duale, nel senso che noi nell'analizzare questa parola ci troviamo di fonte a una possibilità di morte ed una possibilità di non morte, in cui la non morte non è nemmeno concepibile, cioè in un mondo in cui non è possibile morire. Quindi la mente, nella sua astrazione, nella sua analisi riflessiva, può assurgere a questa considerazione. Molte volte vediamo associato questo concetto alla nostra anima, all'anima, l'anima si dice è immortale. Ora analizziamo dal punto di vista del mondo del divenire. Nel mondo del divenire noi abbiamo la morte, ma la morte è associata anche a dei cicli di vita, dei cicli di esperienze che iniziano e finiscono e poi ricominciano. Quindi alla morte è associato il concetto di nascita, quindi c'è la nascita, c'è un inizio e c'è una fine. Questo inizio e fine, come chiaramente caratteristico del mondo del divenire, è duale proprio perché è duale il concetto del mondo del divenire. Il mondo del divenire presuppone queste categorie spaziali e temporali in cui in questo caso noi analizziamo il concetto di tempo. Il tempo si conclude in un determinato modo, ma se noi osserviamo bene la dilatazione tra l'inizio e la fine, ci accorgiamo che in questo percorso, facciamo attenzione alla parola percorso, in questo viaggio, noi ideicamente non rappresentiamo altro che un'altra estensione dello spazio. Quindi il tempo è un altro modo di pensare lo spazio stesso. Ma perché è un altro modo di pensare lo spazio stesso? Perché probabilmente nella dualità noi abbiamo una dilatazione di un punto esperienziale che corrisponde a un punto della coscienza, che noi abbiamo bisogno di tirare, di allargare per vedere in questa spazialità l'evolversi del nostro essere. Quindi abbiamo bisogno di vedere il tempo, abbiamo bisogno di vedere questo spazio, questa dilatazione. Nel vedere questa dilatazione noi ci rendiamo conto che tra l'inizio e la fine c'è un percorso che alla fine si contrarrà in un punto, il punto coscienziale, cioè l'inizio e la fine saranno identificati in un unico punto. Per quale motivo? Perché alla fine dell'esperienza, alla fine appunto di questa morte, c'è appunto un cambiamento di stato e non si potrà tornare più nello stato precedente, perché tornare nello stato precedente significa rivivere esattamente la stessa esperienza. E noi sappiamo che il mondo del divenire è del divenire, quindi esattamente la stessa esperienza non si potrà rivivere, a meno che non sia stato compreso il significato di quell'esperienza. Per cui si avranno altri teatrini esperienziali, però la sostanza sarà la comprensione di quel punto coscienziale. A questo punto che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo semplicemente che la morte è funzionale al cambiamento di stato e soprattutto è funzionale alla conoscenza di questo arco esperienziale che noi abbiamo tra l'inizio e la fine ed è funzionale alla comprensione di tutto ciò che avviene durante l'esperienza. Laddove noi abbiamo compreso questa esperienza e abbiamo capito fino in fondo che cosa significa aver vissuto un inizio e una fine, abbiamo avuto la comprensione del significato effettivo della morte. Quindi il concetto di immortalità è legato al nostro essere profondo che ha necessità di conoscersi e proprio in questo arco esperienziale. Chi è immortale? L'essere profondo che noi immaginiamo come la nostra anima e immaginiamo appunto che sia immortale ha necessità comunque di conoscersi, altrimenti non potrebbe evolversi, altrimenti non avrebbe il senso della vita. Perché dovrebbe vivere nel mondo del divenire se è perfetto così com'è? Così tanto per masochismo? Ma non credo proprio perché la vita va vissuta anche nel mondo del divenire perché è un'esperienza di riflesso dell'essere che è immortale. A questo punto l'essere immortale si vede per confronto in un mondo in cui la morte gli funge da esperienza e dalla comprensione dell'esperienza della morte nasce un'altra parola che è appunto eterno. Eterno significa che l'essere profondo è riuscito ad integrare dentro di sé la parte riflessiva che vede come opposta a se stessa, che vede in un mondo duale e diventa colui che integra dentro di sé anche la riflessione perché quella riflessione fondamentalmente è solo una sua esperienza per conoscersi e quindi per fare questa esperienza, altrimenti poteva rimanersene a casa e non fare niente, né creare l'universo né generare le sue possibilità di essere e rimanere lì. Quindi il senso della vita per me risiede nella comprensione di questa realtà del divenire che funge da esperienza per l'essere profondo e quindi quello che voglio dire sostanzialmente in questo posto che la funzione della morte e del cambiamento di stato è essenziale. Immortale non significa niente se non si capisce il concetto di inizio e di fine e nello si comprende fondamentalmente dentro di sé. Senza la morte non si può conoscere se stessi e per morte non intendo soltanto la morte del corpo ma anche i cambiamenti di stato e di stato coscienziale che giorno dopo giorno attraverso la nostra vita nel mondo dell'illusione, nel mondo del divenire, perché dico mondo dell'illusione? Perché è un mondo che nasce dalla proiezione di questa necessità, quindi una proiezione che è comunque determinata dal nostro essere profondo. Non è che dobbiamo cambiare lo specchio, siamo noi che cambiamo e per cambiare noi dobbiamo capire che significa morire. Al prossimo posto, ciao! Al prossimo posto, ciao!